Bentornati e ora vediamo il servizio della Lexus LC500H, una vettura sportiva ibrida della casa del gruppo Toyota e vedrete la stupenda tecnologia che è stata usata per fare questo spot pubblicitario. Si può dire veramente che la Lexus ha mosso le montagne. Vediamo. Dopo l'esordio in occasione del salone di Ginevra della LC500H, oggi il dinamismo della nuova coupe Lexus viene celebrato con un video che ne evidenzia il design e l'avanguardia ingegneristica prima del lancio sul mercato previsto per il prossimo anno. Allo spettatore viene offerta una panoramica completa della nuova LC in attesa del momento in cui sarà possibile provarla di persona. Girato negli straordinari paesaggi della catena montuosa della Sierra Nevada, lo spot unisce il talento di Edgar David, motion designer di fama mondiale, alle eccezionali capacità del team di Projection Mapping Q&E Productions guidato da Paul Whitefield David, che ha realizzato una serie di effetti visivi che mostrano le peculiarità della coupe con i pistoni del motore e il cambio a dieci rapporti che prendono vita sulla parete frattagliata della montagna, lo sfondo su cui David ha potuto esprimere la sua arte e ha richiesto il preciso posizionamento di telecamere e proiettori. Le riprese hanno coinvolto una troupe di 20 persone, con quattro proiettori tra i più luminosi del settore, gli operatori hanno avuto solo tre notti per tradurre in pellicola gli effetti visivi creati da David. Nello spot la Lexus LC percorre le curve e al suo passaggio la voce del poderoso motore segretola la facciata della montagna, mostrando il movimento dei pistoni e il lavoro degli ingranaggi.